Ci ritroviamo insieme in questo lunedì 27 maggio, così ricco di argomenti importanti. Ci auguriamo che con queste chiacchierate, con questi collegamenti, si riesca a fare un buon servizio per tutti quanti voi che ci seguite da casa. Abbiamo con noi in collegamento adesso il presidente della Copp Generazioni, Stefano Rambelli, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno e ben trovato Stefano. Il tema di cui parleremo con te nei prossimi minuti è giovani e digitale, perché giovedì 23 maggio alla Fiera di Cesena è stato presentato lo spazio pensato per far socializzare i giovani e combattere i rischi a cui vanno incontro in una società sempre più digitale, digitalizzata. Quindi ecco la domanda è come è andato questo evento e insomma i momenti salienti e secondo voi appunto in base ai lavori svolti quali sono le linee guida o i percorsi da seguire per evitare di essere risucchiati dal digitale? In realtà l'evento è stata la presentazione di un servizio socio-culturale fra digitale e reale. Come cooperativa noi ci siamo occupati storicamente di problematiche legate al disagio. Ma a Cesena abbiamo inaugurato questo servizio socio-culturale che tenta di aiutare i ragazzi dai 6 ai 30 anni ad avere un rapporto con il digitale mantenendo anche un rapporto con il reale sviluppando la creatività. Diciamo che Teca che è questo progetto che almeno fino a settembre sarà realizzato presso i locali della Fiera di Cesena è un luogo fisico permeato di virtuale che tenta di eludere quella profonda condizione di solitudine che il polo virtuale fornisce ai nostri ragazzi. E' una macchina scenica attraverso la quale con una struttura precisa si tenta di realizzare esperienze specifiche sempre originali in cui l'uso della tecnologia si coniuga con la presenza fisica all'interno dello spazio scenico. Quindi sono attività di gruppo ma all'interno di spazi ma con l'utilizzo del digitale. E' un tentativo di stimolare sempre di più la creatività. Ovviamente credo che nei prossimi anni non potremo fare a meno del digitale ma uno strumento così complesso, così difficile, a tratti anche così intelligente richiede a nostro parere una preparazione o in qualche modo un pensiero per poterlo utilizzare. Chi ha la mia età è nato in un periodo analogico, chi è nato dopo il 2000 è nato in un periodo solo digitale. Io ho memoria e vivo anche gli aspetti reali della vita. Forse chi è nato dopo il 2000 fa più fatica. Noi condividiamo assolutamente l'assunto, uso il plurale perché in studio con me c'è la collega Maria Pia Picciafuoco a cui il tema sta anche molto a cuore. Ecco praticamente Tony ha voluto dire cora un popolo che io sono più grande di lui, va benissimo. No, questo lo deduci tu. Ma è una grande fortuna. Eh sì, sì, è vero, ma sinceramente come pensi, e ti do del tu visto appunto che siamo boomers, diciamo così, oggi la buttiamo anche un po' sul sorriso, come pensi che queste esperienze reali entrino per i ragazzi nella loro vita? Perché tutto è mediato comunque da quel linguaggio. È un po' come quando l'aria ha un certo profumo o un certo inquinamento. Io non voglio giudicare, per molti il digitale è più un profumo che un inquinamento, per qualcuno magari no. È possibile per noi immaginare appunto questa possibilità nuova di non vedere il mezzo, ma arrivare direttamente al cuore della vita con il digitale? Intanto la prima idea è che è stato progettato da un trentenne che ha studiato per quattro anni, quindi non dal sottoscritto, si chiama Enrico Chiudinelli. E il dottor Chiudinelli si è adoperato, partendo anche dalla sua esperienza, per creare appunto questo aspetto. Essendo lui un trentenne è nella generazione di mezzo fra chi è nato digitale e chi è nato analogico. L'ipotesi è riuscire a mantenere viva l'idea che esiste un reale in cui confrontarsi e che la comunicazione fra reale e digitale possa avvenire mantenendo libera la creatività. Faccio un esempio, perché chiedo scusa se ho interrotto, ma è importante fare un esempio e ancorare quello che stiamo dicendo. Siccome proprio in queste ore si è chiuso il centenario della morte, della nascita, scusate, di Don Lorenzo Milani. Allora Don Lorenzo Milani, lo sanno tutti, è stato una persona che veniva da un certo ambiente alto, diciamo, che si è dedicato ai ragazzi di ambiente completamente opposto e quindi i ragazzi hanno vissuto una realtà anche diversa e l'importanza della parola, del conoscere le parole. Non sto qui adesso a parlare del contenuto, ma sicuramente si dirà Don Lorenzo Milani è stato un rivoluzionario, quindi è un parallelo abbastanza particolare quello che fai. Ma io invece voglio chiedere all'esperto, ma oggi il Don Lorenzo Milani di turno li incontra questi ragazzi emarginati, queste persone, e sono ancora tante, che non hanno nemmeno il modo e il tempo di andare a scuola. Come li incontra e come li salva? Stefano, noi Maria Pia ce l'abbiamo proprio per fare le domande difficili. Esatto. No, io non... Guarda, Maria Pia, visto che ci diamo del tu, la nostra cooperativa si occupa di emarginati da sempre, fin dalla sua fondazione, ma quello di cui vogliamo occuparci questa volta, o di cui abbiamo avuto l'intuizione di occuparci, è la prevenzione. Cioè, in questo momento ci sono molti ragazzi che ancora non hanno questa emarginazione legata al digitale, non hanno questa solitudine legata al digitale, stanno solo iniziando, non se ne accorgono, magari sono in difficoltà un pochino con i loro compagni e decidono che un contatto via WhatsApp, cioè via mezzo telematico, per non citarne nessuno, possa in certi momenti aiutarli, renderglielo un po' più facile. La nostra idea è che lo possono fare, scelgono una strada facile, ottengono un risultato, ma questo non li aiuta. Mentre se riescono a fare, assieme a noi, o all'interno di questa macchina scenica, un'esperienza, forse potrebbero ricordarsela, trovare il coraggio di farla ancora. Che bello. Essendo un'esperienza creativa, che si svolge su due giornate, non è che una volta che un gruppo classe ha partecipato o un gruppo di persone ha partecipato, non può ripartecipare. Perché l'esperienza ha un suo copione, ma essendo creativa, ogni volta è un'esperienza diversa. E quando termina questa esperienza, il gruppo può continuare a discuterne per 15 giorni. Ti ricordi cosa abbiamo disegnato qui? Ti ricordi cosa abbiamo fatto là? Questa è vita. Questa è molto importante. Ma io vengo da una generazione dove il corpo aveva un fondamento. Certo. E sul corpo abbiamo costruito forme di identità. Il virtuale, fa un corpo virtuale, ma funzionerà? Io non so risponderti. Ma per questo è importante, ecco Stefano, perdonami, per questo sono importanti appuntamenti come quello che avete organizzato voi. Proprio per porci delle domande. Vorrei chiarirti, scusami, vorrei chiarirti, non è un appuntamento. Teca ha aperto quel giorno e da adesso in avanti uno può iscriversi a Teca. Ah bene. Guarda, ne approfitto, ne approfitto perché ti avrei... Tu puoi avere un gruppo? Ottimo, ottimo. Ne approfitto perché ti avrei chiesto appunto come fare per rimanere collegati al progetto e seguirlo, per cui se puoi darci anche indicazioni in questo senso te ne saremmo grati. Dunque, come sempre accade, ci sono i social che ti aiutano in questo perché poi dobbiamo ricordarci che noi abbiamo aperto un profilo Instagram e un profilo Facebook in cui c'è Teca Spazio Creativo. Perfetto. Stefano, tu non puoi immaginare quanto per me, quanto mi è prezioso e mi è vicino quello che stai raccontando poi magari te lo racconterò in una telefonata che seguirà magari tra noi appena ne abbiamo la possibilità. Purtroppo il tempo è tiranno per cui dobbiamo andare verso i saluti però sono convinto e che anche Maria Pia è d'accordo con me ci piacerebbe ritrovarti per continuare a parlare dell'argomento. Io vi farei una proposta io non so se siamo in diretta mi dispiace io sono molto naturale e spontaneo secondo me potremmo magari fra un mesetto darci un appuntamento in qualche modo non so ai vostri telespettatori in cui anche il progettista e discutiamo tutti assieme di cosa è successo in questo primo mese di attività. Molto volentieri davvero molto volentieri lo andiamo a fissare subito fate qualche video naturalmente nel frattempo per cui adesso come dicono quelli bravi per il momento ma solo per il momento è tutto perché Stefano ci ritroviamo davvero entro i prossimi 30 giorni. Ok se vuoi vedere qualcosa credo che il profilo Instagram in questo momento sia la cosa più semplice c'è già qualche foto il profilo Instagram si chiama Teca Spazio Creativo Bene molto bene io l'avevo già preso appunto l'avrei rilanciato l'hai fatto bene tu quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a cercarevi sui social Teca Spazio Creativo Instagram e Facebook Complimenti per la finezza delle parole scelte Tony oggi ti ho rubato un sacco di tempo beh ma non abbiamo avuto tempo ma mi hai provocato tu noi ci ritroviamo ci ritroviamo ecco questa è una caratteristica che ho ci ritroviamo tra un mese ci ritroviamo entro un mese Stefano per cui grazie mille grazie e arrivederci a presto buona giornata e buon lavoro linea alla regia